Fare un rendiconto ai cittadini dell'attività svolta in Senato, questo ha fatto il senatore Michele Fine in una conferenza stampa nella quale ha tracciato un bilancio delle sue iniziative. Disegni di legge, interventi in aula, interrogazioni, mozioni, emendamenti, ma soprattutto interventi a sostegno del territorio, ha detto che lo ha scelto. Il racconto è quello di un parlamentare di territorio che si è occupato anche di questioni di carattere nazionale, ma calate nello specifico della terra che mi ha chiesto di rappresentarla in Parlamento. Dal lavoro, dalle vertenze occupazionali, ancora ieri l'interrogazione sulla Magneti Marelli, all'istruzione, alla sanità, ai grandi progetti di sviluppo del nostro territorio, al raddoppio della ferrovia, il sistema Enrico del Fucino, una legge sulla ricostruzione. E poi il tema di cui mi sono occupato sempre più, iniziando dai decreti aiuti sul super bonus fino a proposte di leggi che riguardano il caro affitti, la rigenerazione urbana, il consumo del suolo, cioè tutto ciò che riguarda l'abitare. Un bilancio per lui positivo, ma l'attenzione ora è proiettata sulle elezioni regionali. Perfina Luciano D'Amico è il candidato giusto di una coalizione larga. Lui è un economista e può scrivere con noi un'idea di futuro che riguarda un modello di sviluppo dell'Abruzzo all'interno del nostro Paese. Siccome il tema di cui io mi occupo in Parlamento, in una commissione che si occupa di transizione ecologica e digitale, voglio dare una mano su questo. Lui può aiutarci a capire qual è la nostra identità all'interno del mondo che cambia. Di una regione che ha tante eccellenze, ma anche tanti problemi. Una coalizione larga lo sostiene. Io sarò tra quelli che più di tutti si impegnerà al suo fianco perché io penso che il racconto della nostra regione si debba scrivere in questa regione e anche a livello nazionale. Perché non siamo una regione che vive da sola. Ha bisogno di vivere all'interno di una dinamica nazionale e uscire da una stagione di governo di Marsilio che è stata piuttosto un protettorato. Ecco, lui che in questa regione non c'è nato, non c'è cresciuto, probabilmente non ha niente da restituire. Ha un rapporto molto politicista, molto legato al bene del suo partito. Io credo che Luciano D'Amico saprà interpretare invece un progetto che riguarda davvero quello che l'Abruzzo si merita. Grazie a tutti.